Vetrate scorrevoli per esterni. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. E siamo specializzati in infissi scorrevoli, quindi in vetrate scorrevoli. Quando sono da utilizzare le vetrate scorrevoli per esterni? Io ci consiglio di utilizzarle quando abbiamo delle dimensioni di almeno due metri di larghezza perché sotto i due metri una vetrata scorrevole non ha molto senso di esistere perché solitamente una vetrata scorrevole si fa quando è praticamente ad altezza di calpestì o quando è una porta finestra, quindi presumo che abbia almeno un'altezza di 2 metri 30-2 metri 40 e come proporzione occorre che la larghezza non sia inferiore alle 2,5 volte dell'altezza altrimenti come mi piace sempre fare l'esempio è come un uomo alto 2 metri che porta 36 di scarpe non sta in piedi, quindi lo scorrevole ha bisogno di una base d'appoggio abbastanza grande per poter scorrere bene e non avere problemi di scarrellamento. Queste vetrate ti consentono di fare aperture molto molto ampie, quindi anche diversi metri. Noi alla fine dell'anno scorso abbiamo installato una vetrata scorrevole in una villa a Marina di Ravenna di 18 metri di larghezza. Poi ti permettono di fare delle aperture sia manuali ma anche motorizzate perché quando si vanno con delle dimensioni come quelle che ti ho appena detto magari anche i 400-500 kg che può avere ogni vetro, magari blindato, magari triplo potrebbero essere pesanti ma soprattutto potrebbero creare anche dei problemi di pericolosità perché all'inizio questo vetro avrà l'inerza, quindi quando provo a spostarlo all'inizio è duro ma poi quando è partito i carrelli lo fanno rotolare nel vero senso della parola lui continua la sua corsa e se di là c'è un bambino che cosa succede? Ecco perché oltre i 400 kg noi consigliamo di andare nelle vetrate motorizzate per evitare appunto qualsiasi problema di antinfortunistica o anche di cose più gravi. Per fare queste vetrate di dimensioni così grandi, per farle che funzionano bene, del giusto materiale perché quando si va in certe dimensioni serve un'inerzia meccanica e un materiale che resiste anche nel tempo perché spesso queste vetrate essendo così grandi non hanno protezione per il sole e per i genti atmosferici consiglio una consulenza con un professionista del settore. Il problema qual è? Che se le stai comprando magari nella tua città vai dai due o tre rivenditori o produttori di infissi e ognuno ti dirà la sua quindi ti tirerà l'acqua al suo molino perché c'è un evidente conflitto di interessi. Mentre se vuoi profittare di un servizio di consulenza che ho creato con Sistema Bisacchi ti potrò aiutare nella scelta migliore da farsi senza nessun conflitto di interessi. Infatti io lavoro qui nella Romagna, non posso lavorare in tutta Italia e ho deciso di creare questo servizio per aiutare persone come te che non sanno qual è la scelta migliore da fare. Giustamente perché questo è un lavoro molto complesso che non basta neanche diciamo così leggere un blog o leggere un libro come quello che ho fatto per capire tutto nel mondo dei seramenti. Però frettati perché posso dedicare solamente 4 ore alla settimana e ho deciso di farlo sabato pomeriggio perché tutti gli altri giorni mi servono per fare tutti i numerosi lavori che abbiamo qui nella nostra zona. Se sei interessato vai su www.blogvisacchi.it Ciao e al prossimo video!